Sempre più vicini a te, con un grande network di agenzie e lease plan. Sempre più vicini a te, con tutti i servizi di noleggio a lungo e medio termine, con soluzioni sempre più innovative per la mobilità urbana, veicoli elettrici di ultima generazione, con Ready2E e una rete lease plan di colonnine di ricarica. Sempre più vicini a te, per guidare insieme a te la mobilità del futuro. Le lease plan Italia, sempre più vicini a te.